Le sentenze per carità si rispettano, però noi dobbiamo riconoscere che la Reggio Calabria per scoperire era tutt'altra cosa rispetto a quella attuale. Quindi noi, senza rinnegare nulla, facendo tesorle, quello positivo è stato fatto, oggi lanciamo una sfida e l'anno prossimo dobbiamo riuscire ad arrivare alla Regione Calabria e l'anno ancora dopo al Comune di Reggio Calabria con un centro-destra unito. La coalizione di centro-destra si ritrova al Cineteatro Metropolitano di Reggio per discutere di infrastrutture e sviluppo all'iniziativa organizzata dal Movimento Sovranista che ha visto la partecipazione del segretario nazionale Gianni Alemanno ed il senatore Claudio Barbaro. Per arrivare al centro-destra unito ci sarà però da lavorare ancora, considerate le tensioni che animano soprattutto Forza Italia. Ma alcuni passi sono stati fatti, visto che in platea si sono seduti vicini anche Alessandro Nicolò, che ha appena abbandonato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, e il neoparlamentare azzurro Francesco Cannizzaro. Tra i due i rapporti non è che siano stati propriamente idiliaci nel recente passato. L'iniziativa ha attirato poi quasi tutti i protagonisti della stagione scopellitiana, da Demetrio Arena fino alla mancata senatrice Tilde Minasi. Tutti a rimpiangere il passato e a recriminare per l'assenza del leader attualmente in carcere dopo la sentenza del processo Fallara. Il senatore Barbaro lo è andato a visitare ad Arghillà. È una prerogativa parlamentare quella di poter entrare nelle carceri. L'ho sfruttata per andare a trovare un caro amico, ma soprattutto un grande politico della destra italiana. L'ho trovata in splendida forma, tonico, come mi auguravo di trovarlo. E questo sono convinto che sarà di buon auspicio per recuperarlo a tutto tondo per la politica italiana, per la politica della destra italiana. Riccardo Tripepi per la CNews24